Il Dronchi Rosa è un francobollo del 1961 che commemorava il viaggio del presidente Giovanni Dronchi in tre paesi dell'America del Sud, Argentina, Uruguay e Perù. Il francobollo riportava una mappa dell'America del Sud con il percorso del viaggio, ma per un errore di disegno il confine tra Peru ed Ecuador era sbagliato. Il francobollo fu ritirato e sostituito con uno corretto di colori grigio, ma alcune copie del francobollo rosa sfuggirono al controllo e furono usate per affrancare delle lettere. Il Dronchi Rosa è considerato uno dei francobolli italiani più rari e ricercati dai collezionisti, con una quotazione che può superare i 100.000 euro.